Questo è rosso, ma le schiacci? Eh, è rosso. Ah, ma lei... Allora, lei, questo è... Allora, lei, questo è... Eh, questo lo si fa, gira, eh, vai, vai. Allora, lei, lei... Sì, stai indietro. Eh, lo trovo a casa. Vai. No, no, lei... Eh, no, lei... Eh, no, lei... Sì, stai a girare. Vada a girare, eh! Vado a girare... Gira, gira, gira. Ah, no! Vai, 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 gira... Vai, 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 vai! Ma mantieni la stessa velocità, no? Ma via, vai, 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 vai!!! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.